Giberto Griguoli, direttore generale del CLN Cusmo Lise. Dunque, dicevamo poc'anzi, tre volte in vantaggio, tre volte recuperati, poi nel finale quell'autogol ha deciso di fatto l'incontro, però si poteva fare meglio in fase difensiva. Sì, noi sapevamo che la partita era importante e difficile, è un avversario che nelle ultime dieci, se non sbaglio, ne ha persa solo una. Quindi sapevamo che veniva qui un Manfredonia rinforzato al mercato di dicembre e che probabilmente avrebbe avuto un'altra classifica se fosse partito con questo organico. Quindi l'avevamo preparato in un certo modo, ci eravamo riusciti a rindirizzarla nel nostro verso, poi però purtroppo alla distanza i nostri avversari, secondo me, anche meritando, hanno vinto la partita. E sono d'accordo con la tua disamina, è un campionato che resta in equilibrio, come dicevi, noi guardiamo solamente sotto, voglio dire c'è stata quella bellissima vetrina della Coppa Italia, però per avere qualcosa in più in zona playoff non è sicuramente questa l'annata, c'è bisogno di crescere, guardarsi sotto è importante. Ma dobbiamo sempre ricordare che siamo una neopromossa, abbiamo vinto l'anno scorso i playoff partendo per salvarci, quindi quest'anno ci stiamo confrontando con nuove realtà, un girone tutto nuovo, squadre che mai prima avevamo affrontato e secondo me ci stiamo comunque ben disimpegnando. È ovvio che noi continuiamo a dire, e lo stiamo facendo nella prima giornata, che guardiamo solo giù, non abbiamo mai pensato di guardare in alto, naturalmente le partite le giochiamo sempre per vincere, però è altrettanto vero che dobbiamo ragionare per quello che siamo e per l'organico che abbiamo, c'è un organico secondo me strutturato e bene per salvarsi e sono convinto che alla fine ce la faremo. Ne sono convinto anche io di questo, naturalmente lo auguro con tutto il cuore a voi, detto questo anche quest'anno il girone di ritorno è tutt'altra cosa. Ma spesso in queste categorie è così, il mercato di dicembre stravolge, cambia molte carte, del resto anche noi abbiamo preso due o tre elementi a dicembre, abbiamo un po' cambiato la rosa e poi insomma parliamo sempre di una serie a due, magari ci stiamo già facendo un po' la bocca buona, ma in realtà per noi è tantissimo essere qui ed è un risultato clamoroso secondo me, essere a metà classifica e tutto sommato relativamente tranquilli.